Ben ritrovati cari amici di Angoli, ancora insieme la seconda parte del nostro appuntamento della sera e ancora una volta vi ricordo il nostro indirizzo di posta. Per restare sempre in contatto con la redazione basta scrivere ad angolichiocciolaespansionetv.it. Due volti che sicuramente conoscete e ricorderete anche qui a Espansione TV sono tornati Daniela Scalia. Ciao Daniela e ben ritrovata. Ciao Dolores, ciao. Questa sera sei qui in veste di produttrice di una serie TV della quale tra poco parleremo ma come ho detto tu sei stata anche conduttrice qui da noi. In questo studio, con moltissimo piacere. Bene, insieme a te c'è Luca Tramontin. Ciao Luca, non guardarmi così per favore. Ciao Dolores e ciao studio. Ciao studio, certo perché si torna e quindi ci si risaluta ma questa sera sei in veste di autore e ideatore di questa serie TV che è pazzesca. C'è una clip, io partirei da lì e poi chiacchieriamo. Clip o la sigla cosa dici? Sigla. Ah la sigla, vedi, concordo. Bene, vai regia. Ciao. 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 Ciao ciao. Ciao ciao. Musica E questa come appunto Luca ha ben sottolineato è la sigla di Sport Crime, una nuova serie televisiva internazionale che questi due ragazzacci hanno ideato, hanno pensato e hanno fortemente voluto. Daniela partiamo da te, come nasce questa idea? Assolutamente sì, nasce un po' di tempo fa considerando che c'erano serie tv praticamente su tutto, tranne che sullo sport e spesso anzi lo sport rimanendo solamente come scenario, veniva un po' maltrattato nel senso che a volte anche proprio elementi tecnici venivano trascurati o addirittura sbagliati in maniera abbastanza grossolana. Diciamo che questa idea è venuta prima che ci fosse anche il boom poi delle varie piattaforme che ci hanno spinto ancora di più dopo a credere fortemente in questa operazione, tanto da diventarne produttori noi stessi. Siamo stati prima autori in cerca di produzione e poi abbiamo capito che è proprio un modello anche di produzione completamente diverso sport crime perché come suggerisce la sigla e come vedremo dalle immagini di Ronago tra poco portiamo su set anche i veri sportivi e questo fa sì che l'attenzione nella preproduzione e poi nella produzione sia molto dedicata appunto al gesto sportivo perché lo sportivo si deve riscaldare. Stiamo vedendo proprio in questo momento che cosa accade, che immagini sono? Queste sono immagini dal primo episodio che si chiama Eil Deer Jeb, i due protagonisti sul tatami sono Tiago Pugno che è il protagonista della puntata ed è un pugile, è campione svizzero dei Pesigallo realmente e l'altra invece è Giada Grisetti che è una nazionale italiana di ginnastica artistica, sono i due protagonisti dell'episodio, non sono attori, sono chiaramente degli sportivi che abbiamo scelto anche per le loro capacità comunque interpretative e sono assolutamente fantastici. È chiaro che per fare questo tipo di lavoro il pugile prima si deve scaldare, il regista deve sapere molto bene che ci sono dei tempi che lo sport richiede, il regista è Federico Alotto che andava prima sul tatami comunque a piedi scalzi perché si rispetta molto chiaramente anche la location sportiva. Naturalmente, quindi Luca il concetto di rispetto e di riproposizione proprio della professionalità dello sportivo è a tutto tondo. Sì, sì, assolutamente. Fino a poco fa, ma direi ancora adesso cosa si fa? Si prende un attore, per esempio, ho che ghiaccio, prendo il viso di uno, i pattini di un altro, comincio a montarlo, lo sportivo si stufa. Però vuoi la grande recitazione. Dall'altro lato invece abbiamo fatto proprio, abbiamo studiato una formula, Daniele l'ha studiata, una formula industriale direi diversa. Per le parti attoriali vuol dire avvocati, nonni, parti attoriali lunghe, super attori, super attrici. Ci sono tra l'altro delle grandi collaborazioni in questa produzione. Io dico le mie tre attrici italiane preferite le abbiamo nella nostra serie. Ti sparo i nomi e così facciamo prima Alice Piano, Elettra Malabi e Linda Messerklinger, secondo me, si vedono tanto nelle grosse fiction italiane. Eccola, guarda, questa è la nostra avvocata. Elettra Malabi che interpreta il personaggio di Laura Bonini Keller che è l'avvocato di questa agenzia che indaga su casi di sport e come vedete dallo stile è completamente diversa chiaramente dal personaggio di Luca ed è l'elemento anche non sportivo che interpreta insomma un po' la parte chiaramente giustamente anche del pubblico non sportivo e che tante volte si scontra un po' con i luoghi comuni anche dello sport. Questa è una nostra missione nella vita di sportivi a 360 gradi, da allenatori ad atleti a comunicatori di sport, proprio di abbattere i luoghi comuni. Questa è proprio la nostra missione di vita. Per arrivare direttamente al pubblico, quindi questo sicuramente è uno degli obiettivi. Guarda, si collega con la trasmissione che abbiamo condotto per parecchio tempo qui. Noi eravamo qui a parlare di hockey svizzero, però cosa ci interessava fare? Far vedere che c'era anche il giocatore di 65 kg, che c'era la persona esagitata che giocava a hockey con un ruolo preciso che valorizzasse quell'aspetto caratteriale, ma c'era anche la persona di grande calma, di grande ragionamento. Quindi diciamo lo sport, tanti ci chiedono il doping della Sharapova, non ci interessa te lo guardi a telegiornale, noi vogliamo far vedere quello che c'è dietro. Lo sportivo fa fatica a vedere lo sport nelle fiction perché dice no, se hai giocato a pallanuoto dici no, non puoi tirare col braccio così, il braccio va a quei fine. Abbiamo legato le cose, come struttura diciamo la sceneggiatura Daniela, dialoghi lunghi per gli attori e per gli attrici e per chi recita in pratica. Lo sportivo viene valorizzato più nel gesto, poi ha delle brevi frasi che vengono magari dette o ridette, però si valorizza in più nell'atteggiamento. Non solo nell'atteggiamento tecnico, c'è anche il fare la borsa, c'è anche il parlare con un collega, c'è il sedersi in una maniera o in un'altra, c'è il vestirsi, lo spogliarsi. Così sia lo sportivo che il non sportivo, in pratica vogliamo la potenza di una serie classica. L'agenzia investigativa a Lugano si indaga, si trova il colpevole. Quindi la storia qual è? L'indagine in situazioni particolari, Daniela? Mauro, dalla regia giustamente, ci ha mandato un'immagine che è uno screenshot dal girato che abbiamo fatto a Rieca in Croazia, dove c'è questa sagoma scura del personaggio di Luca e dice ti fideresti di un ragazzaccio da riformatorio, di un appassionato di rock'n'roll che è diventato sportivo? La domanda è un po' una domanda retorica, che è sì, che predispone a dare la risposta sì, ma che contemporaneamente in questa immagine un po' oscura ci fa capire che il personaggio di Dubs è pronto anche a fare quelle cose che sono necessarie per salvare uno sportivo in difficoltà. Capire che a volte uno sportivo nasconde certe cose perché è in fine di contratto, perché c'è qualcuno che a casa sta minacciando la sua famiglia. Ci sono veramente una serie di aspetti che non sono conosciuti. Certo, Luca, in forza della verità che mi pare voi vogliate arrivi a casa attraverso questa fiction, quanto ti ritrovi tu in questo screenshot dove sei così oscuro tra le ombre e c'è questo personaggio costruito? Mi sento psicanalizzato, io pensavo di essere un programma televisivo. Ma che cos'è? Il divano c'è, scusate. Io non sono mai stato l'analista, ma adesso mi sdraio, guardo in su. Non torni mai più, va bene. Allora, come è andata? Noi abbiamo ideato una serie in cui abbiamo detto c'è un'agenzia con sede a Lugano alla quale suoni il campanello per delle indagini. Fine. E qua abbiamo strutturato semplicemente. Adesso arrivo e ti rispondo più tecnicamente ancora. Succede davvero, ci sono queste agenzie. Se ti spariscono, per esempio, 17 giocatori di una giovanile, tutti sono della stessa etnia, non puoi andare alla polizia perché non c'è niente illegale. Si va dalle agenzie sportive, che è un mondo sommerso di indagini. Cosa è successo? Che poi la produttrice qui al mio fianco, il regista e un altro personaggio che per conflitto di interessi non possiamo nominare, hanno deciso di farlo tutto intorno alla mia figura. Perché hanno detto, siccome tutti gli investigatori si assomigliano già, e io non volevo, non volevo assolutamente, ho fatto tutti i capricci possibili e immaginabili, e qua veniamo i pantaloni per i quali il direttore mi prendeva in giro. Eccoli. Hanno accentuato il lato infantile, ecco, è Mauro la regia che va giustamente. Certo, è il dettaglio, eccolo là. Sì, vedi, per tenersi buono il direttore, così mi prende in giro meglio, vedi, aziendalismo. Hanno accentuato i lati infantili contradditori del mio personaggio, hanno detto, non mi interessa una recitazione perfetta, voglio che ci sia un investigatore completamente diverso dal solito. Siccome di due metri, che fanno sport stranissimi, con tre dita, che suonano rock in giro, non ce n'erano tantissimi, hanno detto, ti metti lì. È stato un problema, eh. Ci sarebbe costato veramente sette, otto vite di stipendi formare e preparare uno sportivo, scusa, un attore che fosse anche sportivo con questo tipo di caratteristiche. Quindi lui è rimasto impigliato in mezzo, insomma, non ha potuto esimersi. Ma in realtà il bello di questo personaggio è che c'è questo contrasto molto forte anche con questa fisicità prorompente e poi un forte atteggiamento invece di protezione e di cura nei confronti dei bambini, degli animali, del mondo femminile. C'è tantissimo mondo femminile all'interno di Sport Crime. E c'è un altro screenshot che lo racconta bene, perché quei tacchi fanno capire che la figura femminile c'è ed è ben presente nella produzione. Allora, qui, diciamo, ci serviva un elemento che arrivasse subito. Il tacco a spillo immediatamente fa pensare... A me. ...comunque al mondo femminile. In realtà è un universo molto sfaccettato, perché ancora una volta, torniamo ai soliti luoghi comuni, no? Dello sport un po' macio e invece no. Qui c'è un universo femminile che gira intorno a questa figura di Dubs che in realtà ha tanti lati femminili. È chiaro che quando tu vai a toccare e ad attaccare questo mondo, la sua reazione, stai sicuro, che arriva e bisogna stare attenti. Assolutamente, sì. Quindi, quando e dove potremo seguire questa nuova serie? Che succederà? Quando? In pratica succede così. Noi contiamo di chiudere le immagini per fine febbraio. Post produzione stiamo già abbastanza avanti, dopodiché va in mano un distributore internazionale. Non abbiamo ancora l'accordo per un motivo legale. Finché non hai fatto l'ultima immagine dell'ultima puntata, l'ultimo secondo, non vai a firmare, perché non sarebbe corretto dire. Diciamo che le trattative sono con le grosse piattaforme che usate tutti i giorni, oppure con le distribuzioni open, si dice, cioè quelli che danno alle tv nazionali. Ok, Luca. Quindi, Daniela, in chiusura? In chiusura ne approfitto per ringraziare tantissimo Aronago, Marco Lucca, che ci ha messo a disposizione questa struttura eccezionale dal punto di vista sportivo, l'avete vista, e soprattutto ha capito esattamente cosa serve per collaborare con la produzione di Sportcrime. Quindi un ambiente comunque rilassato, sportivo, con una serie di piccoli veramente accorgimenti. È stato eccezionale, soprattutto ci ha fatto lavorare con uno dei suoi atleti, con Moreno Lucca, che è un pugile di 11 anni straordinario, straordinario, bravissimo. Uno, noi lo tifferemo sempre, due, lo vogliamo senz'altro protagonista in uno degli episodi della seconda stagione, magari perché veramente merita di essere visto. Anzi, voi che siete sul territorio, andate a vedere Moreno Lucca, fate il tifo per lui. Sì, quando dici così Dolores dice lo voglio anch'io, lo voglio anch'io. E certo, e tre stavo dicendo, quindi lo portate qui alla prossima tutti insieme e naturalmente lo conosceremo molto meglio. E con questo io saluto e ringrazio Daniela Scalia e Luca Tramontino. Tramontino, vediamo l'ora, insomma, che tutto questo accada in bocca al lupo. Grazie. Grazie anche a voi, rimanete lì come inizierà tra poco la linea all'informazione. Grazie a tutti.